Morto per ferite da taglio autoinflitte, l'uomo che è sospettato di aver ucciso lunedì la sua ex moglie e cinque altre persone della famiglia di lei, la madre, la nonna, la sorella, suo marito e la loro figlia, 14enne. Il corpo dell'uomo è stato trovato martedì non lontano dalla sua casa di Pensburg, nella contea di Montgomery in Pennsylvania. L'autopsia chiarirà le cause della morte. Bradley William Stone, questo il suo nome, aveva 35 anni, era un ex marine veterano della guerra in Iraq, aveva divorziato dalla moglie Nicole, 33 anni, nel 2009. Dall'ora tra i due era ancora in corso una battaglia legale per la custodia delle due figlie. Appena dieci giorni fa era stata avanzata da parte dell'ex soldato l'ultima richiesta a un tribunale di ottenere l'affidamento delle bambine.